questo caccia oddio è partita la prima batteria della Granbotto i piloti sono a circa 2 km manderannoci ai luoghi della strada per l'Antiorezza i piloti sono a circa 2 km da questo 3 km la strada per l'Antiorezza la strada per l'Antiorezza e l'Ameriazza in un'altra strada per l'Ameriazza la strada per l'Ameriazza e la strada per l'Ameriazza Grazie a tutti 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 Grazie a tutti